Si sveglia il mondo, lo accarezza il sole, si sveglia l'ape maia dentro un fiore. Apre i suoi occhi sorridenti, tropiccia le sue ali trasparenti. Apre i suoi occhi sorridenti, tropiccia le sue ali trasparenti. Giorna e nera, nera e scalla un tanto caia. Il grillo cante di non s'è svegliato, fa la serenata tutto il prato. In quel prato vede come il mare, l'importante un fiore da trovare. Vola, 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 vola l'ape maia. Giorna e nera, nera e scalla un tanto caia. Viglia e nera, nera e scalla un tanto caia. Giorna e nera, nera e scalla un tanto caia. Giorna e nera e scalla un tanto caia. Allora, che è successo? Ma voi state tremando. L'abbiamo visto, mamma, che paura. Vi dispiacerebbe dirmi anche chi o che cosa? Un fantasma, abbiamo visto un fantasma. Un fantasma? Sì, è la verità. Certo, certo. E se invece vi dicessi che i fantasmi non esistono e vi siete sbagliati? No, no, non è vero, esistono perché noi l'abbiamo visto. Beh, dato che insistete, e dove starebbe questo fantasma? Paragli, non c'è spuglio, laggiù. Comincio a pensare che l'abbiano visto sul serio. Ma no, è assurdo. Beh, allora, io qui non vedo nessun fantasma. Aspetta, vedrai che troppo corriva. Eccolo, eccolo lì, guarda! Ah, un fantasma, un fantasma! Non perdiamo la calma, vado a vedere di che si tratta. Ehi, ascolta, chiunque tu sia, vieni qui! Ah, ma sei tu, Jimmy la lucciola! Che c'è in flint? Se te lo dico morirai da ridere. I miei amici, Maya e Villi, sostenevano che eri un fantasma. E ti confesso che anch'io mi sono spaventato. Questa sì che è buona. Venite fuori voi due! Sì! Questi sono i miei amici, Maya e Villi. Buonasera, Jimmy la lucciola! Molto piacere di conoscerti! È la prima volta che vedete una lucciola? Sì, ma dov'è la tua luce adesso? Venite qui davanti, ora ve la faccio vedere. Attenti! Che fai? Così ti bruci? No, no, la nostra luce non brucia. Potete toccarla tranquillamente. Sì, è vero, è fredda, sai, Villi. Ma ne sei proprio sicura? Allora posso toccarla anch'io. Sì, però adesso basta, io soffro molto e solettico sulla pancia. L'importante è che sappiate che i fantasmi non esistono e che non bisogna avere paura delle lucciole. Però non è che avevamo molta paura. No, l'abbiamo fatto apposta a esagerare un po'. E ora scusate, amici, ma devo proprio andare. Arrivederci! Quanta luce! Maia, Maia, svegliati! Il sole è già alto. Ora ci penso io. Le tolgo la coperta, così si sveglierà. Oh, no! Che succede? Che cosa sarà? Forse un lombrico? No, i lombricchi non alzano tanta terra. Che cosa può essere? Che fai? Ascolto! Eh? Senti qualcosa? Credo che qualcuno stia scavando sotto terra. Ma che fai? Ehi, dove vai? Questa deve essere una tana. Che dici? Entriamo! Ecco, il fatto è che, a essere sincero, non ne ha molta voglia. Perché non facciamo un'altra cosa? No, dobbiamo entrare. Noi vogliamo tutto il giorno per conoscere il mondo che ci circonda. Dai, tifone, vieni dentro, forza! No, 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 lasciami fare! Dai! No! Forza, vieni! No, Maia! C'è un vecchio proverbio che dice... Chi ha la mente sana? Basta con i tuoi proverbi! Non entra nella... Tana! Maia! Dove sei, Vildi? Dove sei, Maia? Dove sei? Andiamo via! Che male! Ho sbattuto il naso! Che spavento, mi sono preso! Te l'avevo detto io, i proverbi non sbagliano mai, è troppo buio! Hai proprio ragione! Ci vuole una luce, Vildi! Dove stai andando, Maia? Vado a cercare Jimmy la lucciola! Se viene con noi non staremo più al buio! Ciao! Oh, no! Allora, entriamo? Sì! Maia! Dai, Vildi, adesso non staremo più al buio! Vieni! Vengo, vengo! Ora tenetevi forte a me! Ti dispiace accendere la luce adesso? Oh, no! Certo! Ah! Però questa luce non va tanto bene! Già! Non illumina dove mettiamo i piedi! È vero, meglio tornare indietro! Hai ragione, Maia! Ma non posso farci niente! Sono fatto così? Ho un'idea che risolverà il nostro problema! Uno, due... Uno, due... Hanno avuto proprio una bella idea! Posso perfino schiacciare un pisolino! E io non capisco perché scavano delle gallerie così basse! Ho uno strano presentazione! Come se ci fosse qualcuno! Ma cosa vai a pensare? E quelli che sono? Hai detto qualcosa? Io no! Ho la netta sensazione che qualcuno ci stia seguendo! Ascolta! Non senti questi rumori! Devono essere dei passi! Sono troppo regolari! E infatti sono i nostri passi! È l'eco che ce li fa risentire! Sono degli intrusi! E adesso? Da quale parte andiamo? È lo stesso! L'importante però è fare un segno! Così dopo possiamo ritrovare l'uscita! Giusto! Buona idea! Ecco fatto! Così siamo sicuri di non perderci! Speriamo! Chi è stato? Puliamo! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Non si può più andare avanti! È chiuso! Strano! C'è un passaggio qui sotto! Venite! Ho una paura! Dunque, ora che ci siamo tutti possiamo proseguire! Uno, due! 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 Comincio a stancarmi! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Un altro bivio! Ma non ci siamo già passati di qui? Beh, no, perché ci dovrebbe essere la freccia che prima ho disegnato sul muro! No, no, mi sbaglio! Queste gallerie sembrano tutte uguali! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Ah, continuano a scarabocchiarmi il muro! Male, Ducati! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Siamo di nuovo nel punto dove non si può passare! Sì, abbiamo fatto due volte la stessa strada! Se è così, quello era lo stesso incrocio di prima, allora! Sì, per forza! Già, e perché non abbiamo visto la freccia? Torniamo indietro, così non avremo più dubbi! Uno, due! Uno, due! Uno, due! E questo è il punto dove ho disegnato la freccia! Forse aveva ragione Villi, c'è veramente qualcuno che viene dietro di noi! E questo qualcuno ha cancellato le nostre frecce, così noi ci perdiamo! Nessuno mi vuole dare mai retta! Il dubbio è se sia un amico o un nemico! Non mi sembra che si stia comportando da amico! Torniamo indietro, Maya! Dai, Villi, dai! Aiuto, Maya! Ci sono i corretti che vuoi! Maya, vai, ti aiuto! Maya, aiuto! Basta, non ne posso più! Ma quello ci starai seguendo! Non me ne importa niente, ecco! Su, alzati Villi! Ma cosa è? Maya, non devi aver paura! Io sono tuo amico! Max! A cui si passa? Da uno spaventa all'altro! Max, ci stanno inseguendo! Puoi nasconderci in qualche posto! Ma sì, certo! Seguitemi! Ci penso io! Forza, Villi, facciamo come dice Max! Come è stretto! La sua idea era buona! Peccato che Pai ci ha buttato fuori! Aiuto! 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 Ma questa è acqua! Minomale che sappiamo volare! Se no, dovevamo nuotare! Comunque siamo sempre sotto terra senza avere la minima idea di dove andare! Io dico che bisogna continuare a cercare l'uscita! Dovrà pur essere da qualche parte! Dai, su, andiamo! E se non la troviamo, che si fa? Perché la luce si spegne? Succede quando sono stanco, ormai è tanto che sono acceso! Adesso siamo proprio al buio! Dai, proseguiamo! Però senza luce non possiamo più trasportare Jimmy! Ma io ho paura del buio! Guarda avanti, c'è una luce! È vero? Meno male! Che cosa sarà? Non lo so! No, non toccare! Strano, eh? Sì, forse Jimmy lo sa di che si tratta! Maia, stai attento! Torna qui! Sono come dei fiori! Senti, ti sei accorta che Jimmy non c'è più? Che fine avrà fatto? Beh, forse starà riposando! O avrà deciso di andarsene via! Già, e questo vuol dire che ora siamo senza luce! Ah, ma perché sono venuto con te? Giuro che questa è l'ultima volta che ti do retta! Ho un'idea! Che ne dici? Beh, non si fa così! Non si lascia una povera lucciola da sola quando la sua luce non funziona più tanto bene! Ora come faccio? Un fantasma! Aiuto! Aiuto! Gili, sei tu! E io che credevo fosse un fantasma! Non sai che non esistono i fantasmi! Ti piace? Oh, quanta luce! Laggiù abbiamo trovato una strana pianta luminosa! Tu sai che cos'è? Forse si tratterà di muschio fosforescente! Sì, è vero! È proprio morbido come il muschio! Se non l'hai neanche toccato! Finalmente vi lascia a parte! Maia, aiuto! Ecco chi ci seguiva! Deve essere stato lui a cancellare le frecce! Ma tu ci hai veramente seguito fin qui? Sì, certo! Che hai fatto? Quasi morire di paura! Non capisco che abbiamo fatto di male! Siete entrati in casa mia senza neanche chiedermi permesso! Non ci si comporta così fra gente per bene! Io amo la solitudine! Per questo vivo sottoterra! E non voglio che nessuno entri nelle mie gallerie a disturbarmi! E cercate di ricordarvelo! Scusa se ci abbiamo disturbato! Ma noi non sapevamo di stare a casa tua! Ti posso assicurare che Maia non l'ha fatto apposta! Vedi, è solo un po' curiosa! Beh, dato che mi avete chiesto scusa, vi perdono! Ce ne andremo subito! Se tu sei così gentile, è da indicarci l'uscita! L'uscita, eh? Dunque, vediamo un po'! Mi dispiace, ma non mi ricordo dov'è! No, ma posso farvi uscire lo stesso! Basta scavare verso l'alto! Ah! Questa sì che è un'idea! Dice un vecchio proverbio che in alto scava sempre se la cava! E che e il nostro po' non si è un'idea! Ehi, stai sbagliando! Così scavi verso il basso! Noi invece dobbiamo andare in su! Mi manca proprio il senso dell'orientamento! Lo so, ma non abbiamo scelta! Allarme! Allarme! C'è un grillo d'alpa! Allarme! Allarme! Presto! Presto! Cacciavolino! Sbagliato! Sbagliato! Cos'è successo? Un errore di calcolo! Chissà quando usciremo! Che odorino! Ora dove vai? Maya! Viene da qui! Che ci sarà? Crema di polline! Ma com'è possibile che ci sia della crema di polline sottoterra? Mamma! Mamma! Papà! È un neonato! Ciao, piccolino! Come ti chiami? Io mi chiamo Vespa! Oh, che strano nome! Se non sbaglio ci hanno insegnato qualcosa sulle Vespe, no? Non ne sono tanto sicuro, ma credo di aver studiato a scuola che Calabroni e Vespe sono degli esseri tremendi e che è meglio starne alla larga! Oh, sì! Stati qui, ora viene mamma! Scoppiamo! Presto! Eccomi, bambino mio! La luce! Questa deve essere certamente l'uscita! Urrà! Urrà! Che bello! Ah, che aglio profumata! Finalmente il sole! Evviva! Allora, posso andar bene? Sei stato bravissimo! Grazie di tutto! Ciao! Arriva torse! Maia! Maia! Non ci senti? Si può sapere dove vi eravate cacciati? Se non sbaglio, lui e Jimmy la Lucciola siete stati insieme? Sì, e siamo andati sottoterra! A parte gli scherzi, che avete fatto? Avanti! Te l'ho detto! Siete andati davvero sottoterra! Sì, abbiamo incontrato un grillo talpa! Abbiamo trovato il muschio fosforescente e siamo stati perfino in un nido di vespe! Ciao! Ehi! Maia, aspettami! Come sono stanco, vado a riposare! Sottoterra sono stato sempre acceso, una faticaccia! Non sapevo che per le lucciole fosse una cosa tanto faticosa restare accese! Beh, io me ne vado! Arrivederci! Lo so, lo so, devo raccontarvi quello che succederà la prossima volta, non me lo sono dimenticato! Ho bisogno soltanto di riordinare un po' le idee! Ah, ecco, ora ricordo, ci capiteranno un sacco di guai! Con un ragno, un amantide religioso, una vespa, non faremo altro che scappare, anche se in fondo non siamo dei tipi paurosi! E tutto questo per colpa di una vecchia cavalletta! Insomma, sarà una bella faticata! Ha comprato un flauto, una chitarra, per il bruco e la farfalla blu! Ha portato un etto di torrone, per far pace con il calabrone! Sotto l'albero della festa, questa sera ci sarà un'orchestra! La femaglia danzerà, nel cielo! E il grillo canterà, nel cielo! La lumaca ballerà, con il ragno peloso, un tango curioso! E la mosca riderà! La famica suonerà, un canguro! Come il buon passo del canguro! E l'ombrico ballerà, con i mille piedi, pestando di piedi, e la mosca riderà! Ha 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 ha! Vola, vola a casa la Pemaia, ti ritorno dal Peru! Compra un piffero sull'Himalaya, e del miele a Cefalù! Sotto il riflettore della luna, senza nuvole ma che fortuna! E la nocchia ad una ad una, fanno salti di felicità! La Pemaia danzerà, nel cielo! E il grillo canterà, nel cielo! La lumaca ballerà, con il ragno peloso, un tango curioso! E la mosca riderà!